Sono Luca Pozzato, membro della Commissione Giovani Ingegneri di Venezia e la nostra commissione si occupa di divulgare quelli che sono i servizi e le potenzialità offerte a tutti i giovani ingegneri iscritti e non iscritti all'Ordine di Venezia. Le nostre ultime attività riguardano appunto la divulgazione e la formazione di tutti quelli che sono gli argomenti relativi all'Ordine di Venezia e le attività svolte da esso. Stiamo programmando il prossimo evento durante la bella stagione e abbiamo anche in programma delle attività assieme agli istituti scolastici e all'università.